Io sono venuta qui come sono già stata in Sicilia e andrò nell'altra regione del Mezzogiorno per verificare l'attuazione della spesa dei fondi europei perché a fine di quest'anno abbiamo una scadenza importante sulla rendicontazione, ci sono diverse regioni in ritardo, la Calabria invece è già a un buon punto. E' chiaro che la Calabria così come tutto il sud hanno bisogno di quella quota ordinaria di investimenti che viene dall'amministrazione centrale perché ricordiamo che quelle risorse che provengono dai fondi europei servono alla coesione, cioè a riequilibrare il territorio. Poi ci vuole anche una massiccia dose di investimenti della quota cosiddetta ordinaria, noi purtroppo siamo adesso sotto il 29%, dovremmo arrivare come abbiamo sempre detto al 34% perché il 34% è un criterio sulla popolazione. Secondo me tutti gli investimenti che vanno dalle strade, alle ferrovie, all'università, alla ricerca, a tutti questi settori che sono anche innovativi, gli investimenti su questi temi portano lavoro. Il lavoro porta a consumo interno e quindi è un maggiore sviluppo anche per le nostre piccole imprese che hanno a che fare con l'artigianato, con l'agroalimentare, tutto quello che soprattutto al sud sappiamo fare benissimo.